Me l'hai tagliata, me l'hai piegata, a stare in cartà questo non è possibile che non l'hai visto però me lo incarti dalla parte sotto, ma hai fatto il mestiere guarda che mi hai dato pizza, no bruciata, carbonizzata giornata di pioggia ma la pioggia non ci ferma e so' avvenuto Artrullo me ci accompagna sto ragazzo, siamo coetanei ragazzi, diciamo ragazzo che sei Artrullo, e non solo sei Artrullo, Massimiliano sei pizzaiolo sono pizzaiolo da 24 anni ormai, che mica sono due spicci, come si dice a Roma fatto sta che comunque lui ha la Sallunga, perché ci ho parlato e mi pare proprio che ha la Sallunga e oggi ci accompagni te, ma accompagni te per due o tre pizzerie di zona che conosci allora oggi ci faremo praticamente tre pizzerie, tre pizzerie in forno tre pizzerie però in forno al volo che ci dobbiamo passare perché c'è la pizza rossa più buona del mondo c'è la famosa pizzeria a Montecucco che ci sta da 52 anni, unico proprietario eppure quelli mica sono spicci tanta roba, poi ce n'è un'altra qui e poi ce n'è un'altra vicino a casa mia qua sopra a Colle del Sole che secondo me c'è un bel supplì a me se non mi piace, io non gli faccio i sconti questa per me è una pizza rossa di Cristo quindi facciamo prima un sartarello proprio al forno al volo per piacere questa pizza rossa e poi cominciamo le pizze criminali però dici questa, franchi, tati e magna allora il forno è questo, già siamo arrivati, De Carolis che sta proprio su via del Trullo 278 allora il suo forno è rinomato per la pizza bianca io sono abbastanza pignolo per la pizza bianca e secondo me invece la pizza rossa è proprio superiore alla pizza bianca qua dentro questo è solo, diciamo, l'entrì aperitivo, vero? sì, questa è l'entrì che mi stavi a affannotà? allora c'è una bella differenza tra una pizza troppo cotta e una pizza croccante questa è la cottura di una pizza cotta bene croccante sì, ok? fammela pure vedere, aprila pomodoro, olietto sì, pomodoro è qualcosa di... l'olio è crudo sopra poi... è proprio... mi ricorda la pizza rossa che mi mangiavo a Torvojani quando ero ragazzino sulla spiaggia c'era un forno e poi c'era questa pizza sì, modifica questa è la classica pizza rossa del forno, buona però l'impasto è una meraviglia perché senti come si scrocchia e si scioglie in bocca insieme, capito? scrocchia e si scioglie e l'olio è crudo e ti impassa tutta la bocca sì, mi fa ritornare ragazzino ma infatti io sai quella cosa poi al di là del buono che poi è soggettivo, in alcuni casi è oggettivo perché una cosa è buona è buona la cosa figa è che c'è stanno pizze che ti risvegliano proprio la memoria quando eri ragazzino ma te già ne ero un ricordo poi croccante sotto e inizia la mollica che è soffice quindi c'è due consistenze principali, no? è da 9 dai, non riesco a fermarmi terzo morso si scioglie come dicevi, no? poi c'è da dire una cosa che la pizza impala, a differenza di quella in teglia, c'è una cottura più veloce quasi a metà, 6-7 minuti perché coce direttamente sul riflettario e solitamente se l'impasto non è fatto bene alla romana dopo un po' che la butti sul banco che è calda ti scarica tutta umidità e quindi c'è pure quell'effetto morbido, ok? è difficile che una pizza impala ti rimani crocchante e infatti molte sono morbide, sono mosce che la peggio cosa no, è buono tutto questo è un fuori video, regà, però se vi volete mangiare la pizza rossa da 9 del forno, qua qui siamo a via Monte delle Capre, il civico dovrebbe essere 8, sì la pizzeria di checco? la pizzeria di checco questa è la pizzeria di checco ah questa è una vecchia pizzeria dei primi dell'anni 70 e il proprietario che l'ha aperta era quello di via Bagnera dove fa la margherita più buona di Roma, no? cioè lui stava qua e poi quindi Salvatore si è spostato alla via Bagnera e qua l'hanno rilevata esatto, è una pizzeria storica questa dei quartieri questa è una pizzeria super rinomata soprattutto per i supplì addirittura io sono un cacca di cazzo lo so allora il supplì un po' freddino, un po' nemico non mi fa un pazzo sinceramente è un supplì sufficiente la faccia era tipo quella di via Bagnera con la mozzarella così sì perché ce la mettono sopra a squagliare una volta che è uscita calda ha notato la confezione della lasagna praticamente l'impasto è buona la pizza è buona lo sai un po' moscia? cioè me l'aspettavo più crocchante sì, io pure come più così perché sai che questi mettono poi la mozzarella e la mettono in uscita le conseguenze scarica un sacco di acqua quindi se ne ha la cotta bene sotto, bella crocchante poi c'è questo effetto umido, no? ti perde la croccantezza, è un peccato è buona è buona è una buona pizzeria dei quartieri da averci sotto casa più c'è sotto casa va bene sì considera io gli darei sette però il suo primo non è che mi ha fatto un pazzito quindi sette meno calcola è il mio voto secondo me sì sì, appoggio allora visto che però oggi sono accompagnato da un tecnico, da un pizzaiolo ti vorrei fare una domanda su sta cazzo di alveolatura perché per come la vedo io è una cosa che è subentrata da una decina d'anni a sta parte ma prima la pizzeria romana manco lo sapevano che era l'arveolatura sì è vero beh diciamo che o sbaglio appunto allora io penso che fondamentalmente la pizza romana nasce con il mattarello poi vabbè e tu lo dice uno che sono a vent'anni che stanno prettamente a mano però ho iniziato qui con il mattarello del 98 e all'epoca sia le pizzerie a taglio che quelle al piatto si usava il mattarello c'è poco da fare e facevi l'impasto dopo due ore o cuocevi? eh sì così due ore, quattro ore ma anche il croce era quello no apri cottura, riavvio no no ma non esisteva il discorso di lievitazione e maturazione in frigo perfetto allora ho messo quindi la mia domanda diretta è sta cazzo di alveolatura è indicativa sulla bontà della pizza? cioè nel senso oh quella pizza deve essere buona per forza perché guarda quanto è alveolata è indicativa? sì o no? no secondo me no ti dico pure per te perfetto quindi per il bombardo del lievito l'alveolo lo devo fare cioè viene fuori per forza ma non è detto che è digeribile o che è buona a mangiarla esatto e non è indicativo quindi quello che dice ma non vedi qua la pizza perché mi è stato detto no? perché qua la pizza ma che stai a dire che mi hai detto che non è buona era c'aveva una alveolatura significa che tu invece bello mio facevi il benzinaio e poi ti sei aperta la pizza al taglio diciamo pure un'ultima cosa ma questi sono i classici secondo me scusa se ti interrompo sono i classici quelli dei figli di famiglia che il padre è andato in pensione ha preso il tfr e non sapevano come investirli doveva la Sistema Arfio che se ne andava in giro con la Smartina e Rolexino la camicetta pepprati e gli hanno dovuto aprire la pizzeria te lo dico io no e poi ha l'alveolatura l'alveolatura è buona o se si sono fatti il corso della pizza io l'ho durata un mese e poi non escono fuori i suoi chimici come i gravmaghi delle arti marziali se fanno i corsi di me due weekend e gli hanno attestato io insegno tutti i bruseli e poi dico la pizza romana a base deve essere schiacciata no? la famosa schiacciata romana e quindi se usa il mattarello come cazzo fai a fare alveolo? perdonatemi dopodiché se tu fai un altro tipo di pizza e vai più sullo stile napoletano alta e alveolata quella è un altro stile certo però non è che siccome è alveolata allora è buona può essere alveolata e fa schifo al cazzo si si e ne è manco digeribile e ne è manco digeribile dove stiamo andando? stiamo andando molto di cucco sopra il trullo e sta pizzeria? sta pizzeria ci sta da almeno 50 anni unico proprietario sempre sta gestita da marito e moglie ora da un paio d'anni a questa parte c'è sta il figlio con la compagna ma è un pezzo di storia c'è veramente un pezzo di storia 50 anni si poi dovete sapere che ci stanno le famose teglie fuori misura allora le pizza in teglia la misura classica è 60-40 poi ci stanno che ne so le 80-40 le 90-40 queste sono le cosiddette fuori misura che le facevano una volta c'è pure le ripiane che meritano rispetto e molte le faccio assaggiare e c'è il montacarichi lui che fa cucina fa la pizza sotto la manna entra il montacarichi la porta sopra e quello che sta sopra c'è il forno dietro al banco la finisce da coce ma che insegna? gli hanno sparato che insegna? c'era penso da quando ha aperto 50 anni fa 52 anni guarda che roba qua la via il civico il civico è il 70 no il 66 piazza Mosca 66 pizza rustica polli allo spiato che non si legge perché hanno sparato agli insegna mamma mia pizza criminale nei quartieri criminali e qua a me sei tipo come San Basilio e questo è un multicucco mi ha detto specialità quelle ripiane quindi quelle ripiane ho preso ho preso sarsiccia e cicoria e mortadella e mozzarella con un po' di peperoncino e pomodoro e pomodoro che vale tipo la super pena e vale la super pena sì secondo me sì ti dico i supply no perché le cance stavano non li fanno proprio mi sape li fanno random quando c'era il padre li faceva allora una rettifica quella che è mortadella la mozzarella non c'è se è sbagliata signorina ma io infatti mi la ricordavo così è mortadella un po' di pomodoro e peperoncino mamma mia io l'ho graziato eh perché se avessi preso la pizza con le patate avrei rosicato perché le patate sopra erano crude sotto quindi la patata era bianca e molliccia perché l'hanno cotta dalla platea come tutte le altre non hanno invertito non era una pizza quindi diciamolo aggraziati io ho seguito il tuo consiglio di prendere la pizza ripiena che è una bomba atomica a me fa fassi cioè sto cucinato di salsiccia e cicoria è tipo totale becchia maniera eh il cucinato allora la pizza bianca la pizza bianca non mi fa impazzire è buona è buona però non è che dici pacco è giocamente pizza bianca però il cucinato dentro è spaziale è piccante pure questa si come tradizio senti questa come si fa fanno a fare questa roba tu pensi che io ci vedo una pizzeria una pizzeria che se tu ci passi pure davanti la macchina non ti c'è ferro ma che è quella roba ma manco tipo è l'unica cosa aperta e ti stai a morire di fame penso interessi poi perchè noi abbiamo trovato la margherita che è uscita perchè una margherita qua nasce bella galla ma poi vabbè dentro mi sono tagliato perchè gli ha suonato con il citofono del montacarichi e mentre mi stavo a tagliare aspetta ecco ma non hai risposta al citofono chi l'hai detto ecco no è fido perchè arrivo si aspetta un attimo ha detto tipo una cosa che ci ha proprio parlato lo capito sotto c'è il laboratorio gli ha mandato i teti di un tramontacarichi che arrivano su e chi sta sopra il banco quindi da banchista fa pure la pizzaiola perchè poi ha definito la cocia questo ha tirato fuori la bianca la stavo a girare se la pizza bianca forse è stata meglio riapita tranquillamente 8 più 8 e mezzo perchè c'è un cucinato dentro c'è un cucinato una osteria proprio quindi 8 meno 8 meno io lo do ce sta eh beh vabbè ci sta questo non ti dico che ci devi partire dall'altra parte di Roma però per tutti i pepischelli di San Paolo Marconi Magliana eccetera venite qua al trullo spiegatevi questa che la mortadella il pomodoro si spacca ma pure il brocco e il salsiccia ha capito la mamma rifascia già scusa è buonissima passiamo praticamente sulla via mia sostanzialmente stiamo a parte alta del trullo quindi a collere del sole questa è via Fulda il civico è 45 ok e c'è la famosa pizzeria collere del sole e russica pure qua gli hanno sparato sparano tutti al trullo si spara né in segno lo mangio prima la pizza perché secondo me guarda leggermente è un po' crudetta si è vero la parte sopra si è vero perché ce l'ha chiusa a portafoglia un secondo l'ultima parte si si è una cosetta proprio è vero che poi peccato perché l'impasto mi piace anche se è un impasto strano è biscottoso sembra casalingo perché era incartato e non si è vista magari lui ha fatto pure un po' il mestiere qua perché l'aveva vista però mi ha incartato come fai a non a non vederla quando me l'hai tagliata me l'hai piegata a stare incartato questo non è possibile che non l'hai visto però me l'ho incarti dalla parte dalla parte sotto ma hai fatto il mestiere guarda che mi hai dato pizza no bruciata carbonizzata e qua io so le cose che erose però mancarti in fondo mi nasconde il bruciato ti ha piegata la pizza mi metti mi metti quasi non servirebbe mi metti la porvere sotto la porta quasi quasi non servirebbe di assaggiare i fritti che ho preso una crocchetta di pollo fatta allora è un supplì classico perché lì così mi fai rosicare poi puoi far il supplì più buono di Roma è pollo è pollo è buono vero? è buono è un classicone è il pollo del girarosso quello che è in avanza anzi che buttarlo che è buono comunque no certo poi che fai un buon ci fai insalata di pollo a ripieno ci fai ma invece il girarossi che non si trova più un girarosso docente ma vogliamo aprire qua l'argomento o no? voi sai che aveva i girarossi buoni come aveva un sacco di cose buone non so se tu che c'hai edamnia te lo ricordi io so più vecchio teo e sei più vecchio è una rosticceria polli allo spiedo tuscolano che hanno aperto che ci hanno aperto poi giù da ballerino ve lo supplico ragù ecco ve lo sapete voi cominciate a fare ragù e ti supplico è buono impanatura? croccantina? sì l'impanatura è croccantina fina è fina però ci stanno i pezzetti più grossi e ci stanno i pezzetti più grossi quindi hai capito? questa è la pizza bianca la pizza bianca che avanza è rimasta la fanno seccare e poi passano dentro altre di carne il supplì è anche buono cioè il riso cotto bene il ragù è buono anche se è un po' anemico però ha sapore io direi pure venite a mangiare il supplì qua però poi per fatti che? per mangiarti qua la pizza è bruciata in quel modo quindi grazie mi hai fatto mangiare un ottimo supplì ma il voto non può essere che 5 e più 5 e mezzo grazie dalla compagnia è un piacere quando vuoi quando vuoi sono il tuo gregario ora dobbiamo fare l'altro quartiere prima valle perché tu mi hai detto che mi devi assolutamente portare il mattone quindi ci sarà episodio anche di prima valle scrivete nei commenti le vostre pizzerie che le vado a provare tutte regà poi magari faremo uscire pure una guida una mappatura su google che cazzo ne so qualche cosa se inventamo ci vediamo al prossimo video ciao